Qualunque cosa stiamo cercando nella vita è già qui per noi e ci si mostrerà dove e quando sarà necessario. È sempre nella nostra mente. Qualsiasi cosa ci serva a completare un progetto o ci serva per creare è già qui. Basta prepararsi e lasciare che le cose vadano ed è abbastanza probabile che tutto andrà nel migliore dei modi possibili.